Sindaco D'Angredi, Gioricci si è dimesso, come possiamo risolvere questa situazione del Cervinara? Stasera c'è una riunione con tutti i dirigenti simpatizzanti della squadra e pregheremo il Presidente di rientrare sui suoi passi perché al momento, come la penso io, è l'unica persona che può portare avanti le sorti del Cervinara. Ma lei ha già delle soluzioni che può proporre al Presidente? Sì, diciamo che probabilmente il Presidente si è visto un po' solo in questi momenti di difficoltà, nonostante la squadra sia al primo posto in campionato dobbiamo mostrare un po' con tutti maggiore sensibilità e più solidarietà. Presidente Ricci, il Sindaco ci ha appena detto che rifiuta le sue dimissioni e ha detto che troveremo una soluzione a questo problema. Lei cosa ne pensa e perché si è dimesso? Allora, per il fatto che il Sindaco rifiuta le mie dimissioni sono orgoglioso di questa cosa, però la situazione è molto delicata. Cervinara ha bisogno di altre persone che all'inizio hanno dato una disponibilità che ora non ci sono più. Siamo rimasti sempre i soliti, siamo in 3-4. Avevamo un numero di soci che non si sono mai visti. Dal mese di agosto siamo in 3 persone, in realtà 4, che ci stiamo praticando affinché il Cervinara possa continuare a fare calcio. E fare calcio in un certo modo, perché per fare calcio, come tante squadre che si arrangiano e poi vanno sui campi senza soddisfazioni, questo a Cervinara non è possibile. Cervinara ha bisogno di una squadra degna della classifica che ha oggi, seconda in classifica, ad un punto della prima, allestita in un certo modo, con la bravura di chi l'ha fatta e quindi con l'impegno di chi l'ha fatta, a cui va tutto il merito e quindi voglio dire, per andare avanti c'è bisogno di, parliamo chiaramente, di soldi. Io ho dato già quello che avevo preventivato di dare nell'arco di tutta la stagione e quindi mi sono già impegnato più di quello che erano le mie possibilità di impegnarmi e non ho più la possibilità di impegnarmi oltre. Se il sindaco, insieme agli altri soci, che spero che siano qui stasera, trova una soluzione, può darsi pure che io le mie dimissioni le ridite, ma se non si trova una soluzione che posso dare una sicurezza allo spogliatoio, perché è sempre infermendo, è sempre giustamente alla richiesta di rispettare i miei impegni, io questo impegno non lo posso più rispettare. Il Presidente ha detto che c'è posto per tutti, tutti quelli che vogliono entrare e collaborare possono farlo, la squadra di tutto e del Paese. Noi abbiamo fino a questo momento portato avanti il ragionamento, come lui ha detto giustamente, però siamo aperti a tutti, tutti quelli che vogliono dare il proprio contributo, che la squadra del Paese non è né mia né di Gio e né degli altri ragazzi che si stanno impegnando, è un lustro per il Paese. Se tutti ritengono di doversi impegnare o dare un contributo e si scelgano il ruolo, noi non è che dobbiamo per forza di cosa portare noi avanti il ragionamento, lo può portare avanti chiunque. L'importante è che siamo tutti insieme, tutti uniti, perché Cervinara è una squadra, un Paese esigente calcisticamente. Cervinara vuole una squadra importante, però praticamente per avere questa squadra importante ci vogliono le risorse e se ognuno per la sua parte contribuisce a dare il proprio contributo in un modo o nell'altro anche di idee, perché soprattutto di idee con le idee che si può raggiungere l'obiettivo, chiaramente noi siamo qui a disposizione di tutti e anche a farci con un passettino indietro, perché se altri vogliono gestire benvengano, la squadra ripete, del Paese, non è nostra. Noi abbiamo fatto del nostro meglio e sotto gli occhi di tutti ci vogliamo impegnare a far sì che questo avvenga anche con altre forze fresche, tutti coloro i quali vogliono partecipare. Il Presidente l'ha detto, io lo ribadisco e sono sicuro di interpretare i sentimenti anche degli altri, tutti quelli che vogliono entrare nella società benvengano. qua nessuno si è chiuso al riccio, la porta è aperta, possono anche fare loro e noi fare un passettino indietro. Grazie.